Signor Sindaco, una bella invasione di penne nere nel suo ufficio con un alpino camminatore fra l'altro. E sì che ha il coraggio e la voglia di andare incontro alla gente d'Italia passeggiando a piedi con uno zaino che non è quello piccolo che è adesso, ma mi diceva che è 30 kg, quindi mantiene l'allenamento che gli alpini fanno nella loro attività quotidiana, benemerita per aiutare sempre le nostre popolazioni. È una bella occasione, mi diceva e vi dirà che passeggiando in questo modo si conosce meglio com'è bella la nostra Italia. E poi c'è da sottolineare l'accoglienza degli alpini, che per fortuna ci sono. Quando c'è un terremoto gli alpini arrivano, quando c'è un'alluvione gli alpini arrivano, mantengono uno spirito di corpo che non è soltanto nostalgico, ma è anche sempre e costante riferito all'aiuto da dare alle persone che soffrono. In questa occasione è anche un divertimento, cioè accolgono nelle diverse tappe che il nostro grande podista alpino di Padova fa, lo accolgono e quindi stanno insieme a lui e gli portano quindi il sorriso della nostra città. Anche un po' un messaggio di fratellanza, sarebbe bello che contagiasse un po' tutti. Tanto più di questi tempi dove siamo invasi dai barbari che governano e in questo modo siamo vittime di subire messaggi sempre in negativo, sempre urlati, messaggi sempre di protesta, messaggi sempre di negatività. Ecco, un po' di messaggi di positività fanno bene a tutti. Elio Brusamento arriva invece da Padova e ha deciso di fare una camminata da Trieste, girare tutta l'Italia per ritornare poi fino a Udine. Insomma, un bel impegno. Come nasce questa idea intanto? Allora, questa idea nasce, come ha detto giustamente il sindaco, è nata per un senso di libertà. Sono partito il 25 aprile proprio perché è il giorno della libertà e arriverò in piazza a Udine che si chiamerà piazza della libertà proprio perché il popolo deve essere libero di muoversi e di andare dove vuole dentro i nostri confini italiani ma anche all'estero. Però è nata più che altro per la ricerca dei borghi di confini italiani, per capire la gente di confine, come viene, diciamo, svolto la loro vita tra un confine italiano o francese o tra il confine svizzero o italiano perché sono persone un po' particolari, perché sono tra due fuochi, diciamo, in senso di colture, no? E pertanto ho voluto scoprire queste persone e le scopro ma manca il cammino e ma manca il fatto di tutto il giro dell'Italia. Più che altro la mia idea è quella di libertà di parlare e di conoscere. Questa è la cosa più bella che posso portare.